Malta con William Mangion, interprete, compositore, autore di questa canzone che si intitola Teastime, questa volta. E quindi vediamo durante delle feste, eccolo qui proprio inquadrato, lui durante una festa, qui a Mill Street in questi giorni, ci sono tantissime feste, sono in pochi, sono 1500, ma si divertono tutto il santo giorno, fanno una gara che si diverte di più. Allora, questo signore William Mangion, oltre ad essere un bravissimo musicista, ha suonato e avuto successo a Malta, nel Regno Unito, in Germania, in Olanda, nell'84 ha formato il suo complesso, i Getting Closer, ed è accompagnato da un direttore d'orchestra che si chiama Joseph Samut, ed è il direttore d'orchestra dell'Orchestra Nazionale del Manuel Theatre di Malta. Ma ecco la sorpresa, gli arrangiamenti musicali di This Time, di questa volta, sono del nostro Vince Tempera. Eccolo qui intanto il maestro Joseph Samut, Vince Tempera, autore di tanti successi italiani nei tanti festi di Sanremo. William Mangion, This Time, questa volta, per Malta. D'orchestra, questa volta, è stata una gara che ci sia Grazie per l'attenzione I was using your love Wasting all your time That's where you were wrong But baby, when I found out That you were only fooling around With my little heart It turned so much May I not explain How could you do it I thought I fell in love This time I was there All my love Sitting out, baby This time I won't be missing you Come on, baby Baby I was strong I was strong All my love This time I won't be missing you My love Be on you, baby Baby, baby, baby I can't hear you This time I was strong I was strong I won't be missing you I was strong I was strong I won't be missing you Yeah I was strong I was strong I was strong to speak to you